La terza vittoria per questo volturno di questa nuova stagione, cosa ne pensi, come sta andando e quali sono i programmi per il prossimo futuro? La terza vittoria consecutiva, il campionato non è stato favorevole con le prime gare che abbiamo affrontato, visto che abbiamo affrontato tre squadre super preparate e super ostiche, quest'ultima col Florenzi, considerando la loro lunga esperienza in A1, è un'ottima squadra e in settimana abbiamo preparato ad avere la partita senza sottovalutare il nostro avversario. Siamo scese in acqua con la giusta mentalità, con il giusto carattere ed è così che dobbiamo affrontare tutte le parti del campionato, senza differenziare i nostri avversari perché la strada è ancora molto lunga, quindi la linea che dobbiamo seguire è assolutamente questa. Ci auguriamo che comunque da qui alle prossime partite di fare ovviamente sempre meglio. Simona, terza vittoria per questa squadra e anche il tuo primo gol in questa stagione. Raccontaci un po' le tue emozioni e i progetti per il futuro di questa squadra. Sì, allora questa è stata una terza vittoria molto importante per noi, continueremo a lavorare sempre duro e a dare il meglio di noi. Sono molto felice del mio primo gol e ovviamente cercherò di dare il meglio anche per le prossime partite.